Ehi, fermati, ma cosa stai facendo? Una zattera, eh? Ragazzi mei, a grande richiesta sono ritornato! Vabbè, a grande richiesta, no? Vabbè, però comunque... Comunque ragazzi, sono un club di Game Freaking Zone E ci troviamo in questo quarto episodio di The Sims 2 Island O Island, sembra questo... Non capisco come si pronuncia Scrivetelo voi nei commenti No, non sono così ignorante, vabbè, comunque Scrivetelo nei commenti E fatemi sapere come si pronuncia Abbiamo costruito la zattera Siamo pronti a andare L'isola Vulcano che è lì di fronte Quindi saliamo su questa... Siamo troppo stanchi, non è energia a sufficienza Comunque, abbiamo... Diciamo... Ho raccolto gran parte del materiale Da... Permettimi, insomma, di... Di creare questa zattera Ho raccolto anche un sacco di banane E ho fatto amicizia con molte scimmie E questa è una cosa importante Dormi, dormi, dormi! Eh, eh... Cioè, ho fatto tutto Ho raccolto tutto il materiale Ho ispezionato tutta l'isola Ho fatto tutto Ma non ho costruito una casa E questo mi fa veramente pena Per questo mi sono fissato degli obiettivi Primo, farsi una casa a contatto di cucina e letto Soprattutto letto Velocato, comodo E infine cambiare vestiti Questi fanno veramente pena Luridi, sporchi Vabbè, ci siamo riposati abbastanza No, perché... Non ho detto di mettere il menu Ah, ecco, adesso sì Scimpazzini, mi dispiace La nostra amica è finita Vabbè, ci vediamo Poi ritornerò Non vi lascerò il dacioli Vi prego Vi prego Non mi arrabbiate Ok, credo che adesso Mi faccia andare ad altra l'isola Ancora Eh, che palle Ma c'è Che dice L'icona del letto Deve essere proprio completamente Verde Eh, è stancato anche lui Guardate qua Cosa fa Eh, finalmente Dopo una bella dormita Eh, esploriamo questa nuova isola Quindi non ci resta che Pedalare Il nostro bel pedalo Fatto a mano Guardate lì come funziona Guardate lì come è bello Guardate lì Gratis Bellissimo Che ne fai Degli alliscafi Con prezzi esagerati No Costruisci una bella zattera Pedalo E vai dove vuoi tu Insomma Nuova isola Nuove sfide Guardate qui Quanto è lontana Quando abbiamo fatto Abbiamo, diciamo Fatto moltissimi metri E guardate qui com'è bella Questa nuova isola Guardate, aspetta Insomma, stasera mi lagga un po' L'emulatore Dove sei? Il vulcano, dov'è? Non si vede da qui Da qui non si vede Dobbiamo, diciamo Esplorare anche questa Questa isola Dobbiamo raccogliere Di tutto e di più Anche qui Oh, c'è C'è un teschio Di un pirata? Chi lo so Andiamo a scoprire No, si è un altro atto alla pianta No, no Non di pianta Cos'è? Cosa è successo? Ah si Infontaneamente Ho messo Il Diciamo Il menu E notte fonda Non ci resta che Costruire Una casa adesso Gli obiettivi di prima Ve li ricordo Mi sa proprio Che si è Rincoglionito Il gioco Quindi Non avvio Abbiamo avviato Il gioco Abbiamo esplorato L'isola Siamo giunti Nella giungla Dell'aereo E abbiamo anche Sbloccato Un nuovo bisogno Il bisogno Comfort Trovare una giungla Fatto Ottimo Un altro obiettivo Abbiamo sbloccato Ottimo Ottimo Davvero Un nuovo bisogno Che è l'igiene Quindi adesso ci possiamo fare Una bella doccia Eh si Anche ora Sì C'è un altro ancora Bisogno Divertimento Che bello Uno dietro l'altro Bene 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 Adesso possiamo andare Oppure ci sono altre cose Bene Giungla dell'aereo Come questo aereo Sarà precipitato Questo è evidente Radio Ok Senti musica Vediamo un poco No Non funziona Va bene Quindi Un bel geletto Qui Per l'isola Dove Possiamo Oh Oh La grotta La grotta Ragazzi miei Siamo stanchi Il mio personaggio Non si muove da qui Non si schioda Abbiamo raccolto Un po' di materiale La grotta Ancora la devo visitare La voglio visitare Con voi Ecco vedete Si mette lì E non si muove più E comunque La grotta Non la visiterò La visiterò Nel prossimo episodio Con voi Ebbene Sì Purtroppo Anche questo episodio Breve È finito L'importante È che ve l'ho portato Che è successo Questo casino Dell'hard disk Del computer Nella settimana scorsa Non so se avete visto Gli aggiornamenti Vabbè Andate a vedere Comunque è successo Un vero e proprio casino Quindi l'importante È che ve l'ho portato Non poteva mancare Questo episodio Anche se Povero Privo di animazioni Di tagli Eccetera L'importante È che ve l'ho portato Io sono soddisfatto E niente Mettetevi Tanti mi piace La prossima puntata Sarà molto più Extra large E un'altra cosa È che non vi farò Trovare i bug Ma Un passo alla volta E ciao ciao da crab Ah Dimenticavo Anche Ale vi saluta Saluta Uuuu 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 Uuuu